Un nuovo modo di intendere le relazioni tra le imprese. 100 aziende di Palermo e provincia si sono date appuntamento oggi nell'ambito della giornata del business promossa dal Comitato Provinciale della Piccola Industria. Nella sede di Confindustria previsti 250 scambi con l'obiettivo di mettere insieme la domanda e l'offerta delle aziende per favorire lo sviluppo e il superamento della crisi.